Dobbiamo imparare un nuovo linguaggio che è fatto di simboli, che è fatto di sincronie, di sensazioni e di pensieri, perché è così che loro vogliono comunicare con noi. Ciao ragazzi e bentornati a Pizza Talk. Come ogni volta, come ogni sera, parleremo di un argomento interessante davanti a una pizza. Stavolta ho scelto una bella pizza con farina integrale, con delle belle verdurine sopra, che fanno bene le verdure, mangiate le verdure. Comunque ci fa compagnia stasera Silvia a mendolagine, medium e sensitiva. Perché? Perché parleremo di un argomento molto, molto, molto interessante. Cioè, si può parlare con i morti? Come si parla con i morti? Partendo dal presupposto che io lo ritengo molto interessante come argomento, ma sono molto scettico. Però, ritenendolo molto interessante, voglio sentire appunto il parere di una medium. Ok? E spero che in realtà anche voi lo riteniate molto interessante, se no non ci avreste cliccato sopra. Vero? Comunque, come al solito ci vediamo dopo la sigla e io non vedo l'ora perché c'è lì la pizza che fuma e ho una fame incredibile. Ci vediamo dopo. Ok, allora Silvia, secondo te, no? Perché i trapassati dovrebbero voler parlare con noi? Ciao Ivano, grazie per la domanda. Di solito siamo noi quelli che vogliono parlare con quelli che definiamo dei furti. Io cerco sempre di immaginarmi di essere nei loro panni, no? Immagina anche tu di essere nei loro panni. Sei sopravvissuto ad una morte fisica e continui a vivere nel tuo corpo, ma non nel corpo fisico. E i tuoi cari non riescono a vederti, non riescono a sentirti come facevano prima, perché tu sei spirito e quella è la tua essenza. Perciò immaginati questa scena, no? Non vorresti dire a tutta la tua famiglia che sei sopravvissuto alla morte, così che loro possano smettere di soffrire e possano iniziare a celebrare la tua rinascita con te. Ma immagino di sì, almeno questo è quello che vorrei io. Questo è quello che è capitato a me e quello che vorrei io. Quando lasciamo il corpo di carne, ci rendiamo conto di quello che è il nostro proposito qui su questa terra e di quanto preziosa sia l'opportunità che Dio ci dà di vivere qui. E spesso la prendiamo per scontate, prendiamo per scontate le peredizioni che riceviamo, le possibilità che ci vengono date e le persone che sono messe sul nostro cammino. E chi passa al mondo spirituale ha penchiare le lezioni che era venuto a prendere su questa scuola, in questa scuola che chiamiamo terra. Perciò loro vogliono farci sapere che hanno compreso, che hanno capito e che continuano a vivere. Per questo che vogliono parlare con noi. Ok, quindi ti anticipo già che io sono abbastanza scettico in materia, no? Ma ti ho intervistato perché alla fine io voglio la persona più qualificata per parlare di un determinato argomento, ok? Quindi quello che ti chiedo è, secondo te si può davvero parlare con i morti? Si può assolutamente comunicare con i trapassati, invece di parlare io direi più che altro che loro ci insegnano ad ascoltare. Non è molto diverso dal comunicare con una persona che è viva qua sinceramente. A volte noi siamo molto più bravi a parlare, ad esprimerci invece che veramente ad ascoltare quello che l'altra persona ci sta dicendo. Perciò quando i nostri cari passano dall'altra parte dobbiamo imparare un nuovo linguaggio che è fatto di simboli, che è fatto di sincronie, di sensazioni e di pensieri. Perché è così che loro vogliono comunicare con noi. Non possiamo aspettarci che loro comunichino nello stesso modo in cui io sto comunicando con te. Il mezzo più semplice che loro usano è il pensiero. Però noi, nella nostra mente, i nostri pensieri vanno sempre a 100 miglia all'ora. Perciò dobbiamo imparare veramente, se vogliamo comunicare con il mondo sottile, a rallentare quei pensieri, a prenderci tempo per meditare, per osservare quello che abbiamo nella nostra mente. Così che impariamo prima di tutto a conoscerci. E poi riusciamo sicuramente a distinguere pensieri che arrivano da loro. Perché sono pensieri nuovi, pensieri che non erano lì prima. Ed è l'unico modo che loro hanno di comunicare con noi. Perché non vogliono staventarci parlando al di fuori, al di fuori di noi, usando una voce come la mia, per esempio. Ok. Allora, ora ti dico una delle mie più grosse paure, sostanzialmente. Parlandone poi con vari altri esperti in materia e con cui facciamo discussioni un po' filosofiche, tra cui gli altri intervistati che ho avuto in trasmissione. Una delle mie più grosse paure è non il vedere un fantasma, ma il vedere un alieno. Perché gli alieni li reputo una minaccia reale, mentre i fantasmi da una parte li considerano non una minaccia, dall'altra mi confermerebbero che c'è un'esistenza dopo la morte, e quindi mi toglierebbero un'altra delle mie grandi paure, che è la morte, sostanzialmente, no? Ecco, quello che ti volevo chiedere io è proprio a proposito di questo. Cioè, da medium, secondo te, si passa davvero a miglior vita? Io ti dico che ero sciattica come te, nel senso non sono mai stata una che crede alle cose ciecamente. Perciò, quando è venuta a mancare una persona nella mia famiglia, ho iniziato a farmi domande come quelle che ci stiamo facendo noi adesso. Però, sai, quando ti viene a mancare qualcuno, tu davvero ti vuoi chiedere, vuoi trovare delle risposte, mentre quando nulla ti accade, metti queste domande da parte. Perciò cosa è successo? Che ho scoperto che possiamo comunicare con i trapassati, e ho iniziato a lavorare come medium, a fare dei corsi, per scoprire come questa comunicazione avviene. Il creatore mi ha mandato un sacco di madri che hanno figli nel mondo spirituale, e quindi le madri che hanno perso i loro figli sono le persone più resilienti che ci siano, e vogliono veramente sapere se questa storia che noi sopravviviamo alla morte è realtà o meno. Perciò loro non sono persone che si lasciano illuire dai ciarlatani, e questo mi ha forzato veramente a pregare, a pregare il creatore, a chiedere se questa è una realtà, ho bisogno che tu mi mostri che è davvero così. Perché non voglio mandare le persone su una strada che non è quella reale, non voglio diventare un ciarlatano io stesso, io stessa, e veramente voglio scoprire la verità. Perciò mi è stata data la possibilità di vivere molte esperienze spirituali, molto forti, molto intense, che mi hanno fatto passare da scettica a credente, perché ho visto e provato con i miei stessi occhi. Per questo dico a tutti coloro che provano paure, per esempio, anche la paura degli alieni di pregare e chiedere delle esperienze che ti facciano, che ti mostrino la verità, perché la verità non spaventa mai in realtà, ma ti apre gli occhi a cose a cui prima magari eri chiuso. Ok. Parlavamo di te del fatto, chiaramente in un altro contesto, che tu lavori negli Stati Uniti sostanzialmente, e vivi negli Stati Uniti. Mentre qui in Italia forse sarebbe difficile fare sostanzialmente quello che fai, perché è difficile addirittura parlarne forse di questi argomenti, no? Secondo te perché in Italia è così difficile parlare di questi argomenti? Allora, è difficile perché culturalmente non siamo pronti a scoprire qualcosa che lo stesso Gesù cercava di dirci duemila anni fa, quindi in duemila anni ancora dobbiamo fare in di strada, ma la strada che dobbiamo fare è una strada non fisica, è una strada mentale, è una strada spirituale, ossia abbandonarci ad una conoscenza più ampia di quella che è la conoscenza logica e intellettuale. Personalmente mi ci è venuto un bel po' per arrivare a questa conoscenza. Giusto per toccare un attimo l'argomento di prima, si passa davvero a miglior vita. In realtà il mondo spirituale ci dice che la Terra è un luogo di prova e di espiazione, e che quindi una volta che si è arrivati nel mondo spirituale è come arrivare ad un porto dove tu finalmente puoi riposarti dopo un lungo viaggio. Mentre qui siamo venuti per imparare tutte le lezioni che la nostra anima, che è ciò che anima il nostro corpo, ciò che gli dà vita, perché senza il tuo spirito, senza la tua anima tu non esisteresti in questo momento nel corpo divano, esisteresti solo in essenza. La nostra anima continua il suo pellegrinaggio verso l'unità. Per quanto riguarda l'ultima domanda che mi hai fatto, ci sono due fattori principali. Uno è quella la paura di cui parlavi prima. Molte persone hanno paura di parlare del mondo spirituale. Questa era la mia paura, per esempio. parlare di spiriti mi faceva venire la pelle di gallina e era qualcosa che non volevo fare in maniera più assoluta. Alle persone che hanno paura direi di fare quello che ho fatto io, cioè di informarsi e capire che gli spiriti non sono come Hollywood li mostra, ma sono persone reali come me e te, che semplicemente hanno lasciato il corpo e non vogliono spaventarci, vogliono solo comunicare che la vita continua e comunicare qualsiasi cosa che loro vogliono comunicarci. E sanno che se ci spaventano non ottengono nulla, perciò evitano di mostrarsi o di comunicare con noi a meno che la persona non è pronta. E poi l'altro fattore è lo scetticismo. Io sono aperta a tutti gli scettici, che però sono ad esempio come te, che sono aperti a conoscere, perché è uno scettico diverso da un masochista o da uno che crede di sapere tutto e che non si informa neanche. Quindi apprezzo molto che tu stia facendo questo lavoro e che sia curioso di scoprire. Perfetto. Beh, credo che in realtà su questo conveniamo abbastanza, sul fatto che l'esistenza in realtà non serve a nient'altro che a imparare qualcosa. Cioè, almeno questo è quello che provo io e che penso sia un fondamento, a parte di questa trasmissione, anche dell'intrecciarsi con gli altri, avere rapporti con gli altri, perché sinceramente se... Io ho molta difficoltà a interagire con qualcuno da cui non posso imparare nulla. Diciamola così. Comunque. E anche questa intervista è finita. Grazie mille Silvia. Anche oggi ce l'abbiamo fatta sforare i dieci minuti, ma non è un problema. L'argomento è interessantissimo e spero sia piaciuto anche a voi che state vedendo. E niente Silvia, ci salutiamo e magari ci rivedremo per un'altra intervista, se vorrai. Assolutamente. Grazie mille a tutti per aver ascoltato e a Ivano per mettere sotto questa intervista. Perfetto. Grazie a tutti. E ragazzi ci vediamo dopo la sigla. Lo sapevate che ancora oggi, presso alcune culture, soprattutto tribali, c'è questa credenza per cui fotografare qualcuno equivale a rubargli l'anima? Perché imprimere l'immagine di qualcuno sulla carta o comunque rubagliela, è rubargli l'anima. Lo sapevate? È ancora abbastanza diffusa come cosa. Comunque, anche questo pizza talk è finito. Bellissimo, ma il prossimo è sempre il migliore. Quindi iscrivetevi al canale cliccando sul tastino qui intorno. Mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video. Vi invito anche a seguirci su Spotify, Instagram e TikTok. Comunque ci sono contenuti interessanti. E noi come al solito ci vediamo alla prossima pizza e alla prossima intervista. Io non vedo l'ora. Ciao ragazzi.